Continua a crescere il numero dei contagiati da coronavirus in Sicilia, aumentano i guariti e il numero di tamponi effettuati. Apprensione a Palermo sui contagi a Villa Maria Leonora, la clinica privata, dove al momento sono 22 i contagiati su 149 tamponi, in base ai dati forniti all'assessorato regionale alla salute, che comunica un'imminente ispezione nella struttura di via alla regione siciliana. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, giornata alle 17 di ieri, venerdì 10 aprile, in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato alla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 31.156 più 2.414 rispetto all'altro ieri. Di questi sono risultati positivi 2.302 più 70, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.967 persone più 25, 187 sono guarite più 35 e 148 decedute più 10. Degli attuali 1.967 positivi 630 pazienti più 1 sono ricoverati, di cui 62 in terapia intensiva meno 1, mentre 1.337 più 24 sono in isolamento domiciliare. Grazie. minda